Sono una semplice insegnante, aiuto chi ha bisogno per italiano, storia, nel caso filosofia, latino. Il ragazzo vede non solo come la mamma, la zia, il prolungamento di ciò che è la famiglia, ma vede anche il collegamento con la società, perché la religiosa di solito è la figura della società, che lavora nella società, nei gruppi sociali. Allora, secondo me è ottimo porre anche una religiosa, oltre a una laica, che svolga una presenza di aiuto, di sostegno nelle diverse materie, nel campo spirituale. Quando è l'ora della preghiera, dell'adorazione, mi sorprende che ho entusiasti, vi vedo, e mi chiamano, mi invitano ad essere presente con loro. E questo mi dà tanta gioia, dico, Gesù che desiderato dai bambini, oh che bello, devo imparare. E allora mi pongo anch'io a guardare nei loro occhi, nei loro inviti, nelle loro espressioni, quando mi dicono, Su Lucia, vieni anche lei a pregare con noi, ma guarda che bello, io non ce l'ho per me. E fare l'adorazione è quasi un dovere, un orario prestabilito e mi prepara. Invece loro hanno l'entusiasmo di invitarmi, ed è molto bello questo. Essere Chierichetto per me vuol dire un ragazzo speciale in operazioni speciali, non comuni. Chierichetto per me vuol dire un ragazzo speciale in operazioni speciale in operazioni speciale in operazioni speciale.